buongiorno a tutti benvenuti alla rassegna stampa del mattino oggi giovedì 17 settembre 2020 siete sul canale 17 di fano tv questa è occhio ai giornali la rassegna stampa del mattino in onda ormai da 15 anni e salutiamo con piacere ed è una gioia sempre ritrovarsi tutte le mattine sempre di più sempre più numerosi per iniziare una nuova giornata insieme e lo facciamo innanzitutto guardando il calendario con il santo di oggi la chiesa ricorda oggi san roberto bellarmino l'alba è spuntata alle 6 e 52 e il sole tramonterà le 19 e 18 per chi ha intenzione di uscire di casa e allora l'orario è anche quello propizio quello giusto sappia che sulla costa questa mattina quest'oggi avremo una giornata comunque serena con sole che spenderà su nord a sud praticamente mentre soltanto un po di isolati piovaschi sulle zone penniniche nel pomeriggio le temperature sono come quelle di ieri quindi decisamente calde venerdì 18 ancora tempo instabile al sud della regione limitatamente alle zone appenniniche un po di nuvole invece sulla costa mentre sabato ancora cielo irregolarmente nuvoloso al mattino nuvole alte nel pomeriggio poi ampie schiarite in serata temperature invece ancora in diminuzione nei valori minimi ci sarà un po di cambiamenti ci saranno un po di cambiamenti per quanto riguarda il tempo dalla prossima settimana probabile domenica lunedì o anche comunque la settimana prossima ci saranno delle piogge anche sulla sulla costa e adesso i giornali andiamo subito a vedere i giornali con la prima pagina del resto del carlino di pesaro il titolo tutor stiamo parlando di quelle macchinette che servono per per rilevare la velocità delle automobili ci sono due tutor in particolare uno trafano e pesaro sotto monte e l'altra invece sulla monte la battese ebbene quello sulla statale finora in pochi giorni ha elevato oltre 700 multe trafano e pesaro per chi fa questa strada sa benissimo di cosa sto parlando sto parlando che di questo tratto dove si va praticamente a passo di lumaca purtroppo non tutti leggono i cartelli si rendono conto e quindi vanno tranquillamente a velocità superiore 50 e quindi finiscono in trappola c'è però un problema lo vedremo tra poco quel limite era stato messo lì per l'estate per la stagione estiva perché ci si parcheggia perché c'è tanta gente che attraversa la strada visto che la spiaggia è lì di fronte ma quel limite doveva essere alzato a 70 chilometri orari appena finiva finita la stagione estiva ancora è tutto fermo ma di questo vedremo e parleremo tra poco invece la fotonotizia è per il duello finale tra Mangialardi e Acquaroli sfida su aziende banche fondi europei è una foto che è stata scattata nella sede della 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 degli industriali mentre per quanto riguarda le altre notizie a Villa Fastigi c'è stata l'inaugurazione della casa dei risvegli intitolata Christian Terenzi mentre continuano i disagi sugli autobus sulla scuola sugli studenti che devono andare a scuola è polemica però da Adria Bus continuano a dire appunto che potenzieranno le corse Viale della Repubblica Pesaro Villa Bucci torna in vendita costa oltre 2 milioni di euro mentre sulla pandemia un'anziana trovata positiva il covid ricompare a Santa Colomba di taglio basso sempre dalla prima di sport basket cain relax al porto selfie e piadina un giorno per tirare il fiato dopo le fatiche sul mercato invece la via per il lungo passa attraverso i giovani ma è uscito sono usciti anzi i calendari di serie c fanno il debutto subito in salita la vista invece più serena e granata al via nel tempio del Perugia i bianco rossi iniziano invece con il legnago contagio bimbi subito risposta il titolo d'apertura del Corriere Adriatico a tre giorni dall'inizio dell'anno scolastico arrivano già le prime richieste di tamponi dalle famiglie degli scolari i pediatri chiedono una corsia dedicata per gli esami sulla positività rischiamo infatti dicono il rischio il blocco delle scuole a centro pagina sciocca d'Ancona nessun morto per fortuna rogo al porto notte di terrore consegna lo spinello ma Hermes il cane della guardia di finanza non ci casca hashish nello zainetto è successo a pesaro marche coraggiose un blitz notturno contro i manifesti e poi sempre da pesaro colpi alla compagna con un martello condannato a cinque anni l'allarme sul voto di scambio in troppi vendono la dignità reazioni a raffica dopo la denuncia di cecchini dell'udc ruggeri del movimento 5 stelle chiede le indagini della procura è molto giusto quello che dici scrive sui social molto giusto quello che scrive che dici sono tanti quelli che vivono sui valori ma troppi corrotti che per il denaro hanno venduto la propria dignità è il commento vibrante alla lacerazione del velo del conformismo sul voto di scambio compiuto da francesca cecchini candidata all'udc che ha ovviamente scatenato una ridda di reazioni voto di scambio ti do dei soldi in cambio del voto ma non è solo questo per il quale c'è si rischia il carcere anche duro ma insomma ci sono anche tante altre cose che gli si avvicinano al voto di scambio dalle cene a tutto il resto comunque adesso andiamo a vedere quello che scrive il carlino sulla questione del tutor da fano a pesaro a passo di lumaca il tutor fa strage 705 multe dal 14 di agosto quindi il limite neanche sia appena un mese passato ma insomma il limite per ora resta ai 50 molto basso per quel tratto io spesso ci vado e devo dire che andare 50 praticamente è come andare come essere fermi uno che va in bicicletta ti supera tranquillamente sulla ciclabile lontana ora questo non significa nulla significa che è certamente un tratto che va preservato è un tratto che va attraversato in sicurezza soprattutto d'estate ma d'inverno d'inverno secondo me il tutor lì non serve assolutamente a nulla se non a fare cassa o comunque vabbè se si vuol lasciare sicuramente 50 è un limite troppo basso comunque per chi sgarra questa è una cosa interessante per chi sgarra soprattutto la soglia dei 55 chilometri orari sono 42 euro per chi invece supera il limite dai 10 ai 40 chilometri sono 173 euro di multa e lo scalo di tre punti nella patente di guida per chi invece vabbè qui siamo uno deve andare sopra c'è devo fare più di 140 chilometri orari in quel tratto il che giustamente verrebbe multato con 544 euro di multa e il ritiro immediato della patente oltre sei punti di penalità appunto sempre nella stessa quando cambierà il sistema stando alle promesse estive si sarebbe passati dai 50 ai 70 fine della stagione a dimostrazione che non si voleva fare cassa così aveva detto anche l'assessore al comune di pesero riccardo pozzi che ha detto appunto questo limite solo per l'estate poi dopo si passerà ai 70 ma al momento è ancora tutto così la pagina di fan del carlino si occupa questa mattina alla luce di quello che è successo purtroppo a comodo è stato ucciso il prete che aiutava gli immigrati l'intervista ad un prete senza paura tra i migranti ovvero don Alessandro Messina che è originario della Sicilia ma da 30 anni opera nella diocesi di Fano ed è parroco di Cartoceto e Saltara e direttore dell'ufficio pastorale per migranti e itineranti appunto della diocesi di Fano cosa faccio dice lui aiuto i migranti a raggiungere autonomia e indipendenza e dice qui sotto quello che mi sento di dire è che quando si fa un tratto di strada con chi è in difficoltà si capisce quanto noi italiani siamo fortunati e si impara a lamentarsi di meno ci terrei che questo lo scrivesse rivolgendosi ad Anna Marchetti del Carlino che l'ha intervistato nonostante le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare la nostra vita è un paradiso terrestre rispetto a quella di molti migranti così appunto si è espresso don Sandro e adesso invece le pagine di Urbino e Fano del Corriere Adriatico da Urbino si parla delle 400 matricole che saranno accolte in piscina scienze motorie ha sperimentato la felice riapertura estiva dell'impianto mentre da Fano lezioni sospese anche senza seggi alla corridore i genitori protestano per il disagio che vivranno nei giorni in cui nonostante non ci siano in quella scuola i seggi elettorali per le elezioni e per il referendum insomma sono costretti a tenere i bambini a casa con i relativi disagi quelli di dover magari per i genitori che lavorano soprattutto dover trovare una soluzione per appunto lasciare i figli che non vanno a scuola mentre sull'altra pagina del Carlino si parla di BS l'arrivo ufficiale questa volta della di questo manager che vedete nella fotografia che si chiama Massimo Potenza e che ora è stato nominato coamministratore delegato della BS nella società lavorerà al fianco di Roberto Selci anche se il manager che è stato anche a capo del gruppo Barilla sono ormai giorni che cammina all'interno dello stabilimento degli stabilimenti di chiusa di ginestretto la società ha annunciato solo ieri il suo ingresso ufficiale. Roberto Selci che è amministratore delegato del DBS Group ricordiamo la BS è una società specializzata nelle soluzioni tecnologiche per la lavorazione del legno del vetro plastica pietra e metallo attraverso questo ingresso ha detto Roberto Selci il gruppo rafforzerà il processo di trasformazione ed evoluzione già in atto con l'obiettivo di definire una struttura organizzativa sempre più flessibile e in grado di adattarsi velocemente a contesti in continuo mutamento. Massimo Potenza è nato a Bari nel 1960 laureato in economia azientale entrato in Barilla nell'85 ci è rimasto fino al 2011 poi si è occupato anche di altri settori consulenza in abbigliamento di lusso cibo farmaceutica e meccanica. Quarantena breve parliamo di covid e no al doppio tampone la previsione del viceministro della salute Sileri lo vedete in questa immagine Sileri che è di area no di area del 5 stelle è anche un medico quindi insomma parla avendo titolo dice Sileri che dopo lo stop del comitato tecnico scientifico il viceministro della salute rilancia la riduzione dell'isolamento quindi non più 14 giorni ma la metà praticamente. Lui è convinto che si possa fare ma il comitato tecnico scientifico invece ha congelato l'altro ieri questa possibilità anche se il viceministro insiste soprattutto per i contatti stretti dei contagiati e la cosa che così sulla quale insomma ci si ci si soffermerà un attimo è questa della data metà 2021 il covid sarà sconfitto a metà del 2021 ne è convinto Sileri ne sono convinti anche altri 2021 significa che ancora dobbiamo portare pazienza per qualche mese poi chiaramente bisognerà vedere un po' come andranno le cose nei prossimi giorni ma ecco io direi che bisogna soprattutto lo diciamo anche le persone anziane che magari hanno un po' più paura sono un po' più in apprensione per questo covid ecco c'è il covid non possiamo dire che non c'è ma si può stare ormai assolutamente più sereni rispetto alla paura dei primi giorni di marzo perché comunque adesso tutti sanno quello che devono fare quindi anche gli anziani soprattutto facciano una vita normale tranquilla serena proteggendosi con le mascherine mantenendo le distanze ma facendo una vita tranquilla serena come si è sempre fatto prima del covid quindi se uno deve andare a far la spesa va a far la spesa esce di casa senza problemi incontra le persone può fare due parole stando a un metro un metro e mezzo di distanza senza problemi e la vita scorre tranquilla senza nessun ostacolo la casa dei risvegli intitolata a christian terenzi stiamo parlando di una struttura una struttura importante che si trova a villa fastigi che tra l'altro è il quartiere dove terenzi era nato e cresciuto il quartiere per il quale si era profondamente impegnato poi c'è stato un incidente autonomo automobilistico scusate dove terenzi è stato sei anni in coma e poi nel 2012 è morto e ha lasciato chiaramente un grande vuoto in tutti coloro che l'hanno conosciuto ora questa struttura entra nel pieno della sua attività dopo i 30 posti per pazienti in stato di minima coscienza entro la fine dell'anno verranno attivati altri 50 posti letto 30 entro la fine del mese per le attività di riabilitazione neurologica e ortopedica per cui era nata e appunto la struttura che è stata inaugurata diciamo con questa cerimonia alla rsa di villa fastigi è intitolata appunto a questo giovane a questo christian terenzi questa è la fotografia che ormai ha fatto il giro è diventata virale la potete vedere ovunque se digitate anche su internet rogo di ancona questa è la fotografia dell'impressionante incendio che si è sviluppato è una foto che ha scattato una ragazza arianna moroni e che insomma spiega fa vedere capire subito un po l'entità del problema ancona sembrava beirut sì il sindaco ha chiuso le scuole e i parchi anche nella giornata di oggi quindi anche i fanesi quelli che dalla provincia di pesero si spostano verso ancona sappiano che ma questo già lo sapranno insomma che oggi le scuole sono chiuse dall'università fino agli asili nido il rischio è quello della nube tossica i pompieri sono arrivati anche da pesero da tutta la regione oltre dieci ore per spegnere tutte le fiamme è stata insomma una notte davvero di terrore quella di ieri illuminata a giorno praticamente dalle fiamme le altre pagine della nostra segna stampa Valcesano da frontone la federazione sport invernali approva gli impianti del Catria festa del comitato umbro marchigiano della Fisi quest'estate il 40% in più sul Catria di visitatori mentre sugli studenti ammassati sul marciapiede e a rischio a Mondolfo Lucchetti segnale il pericolo il pericolo all'ingresso delle scuole il sindaco dice blocchi il traffico in effetti l'assembramento qui è quasi come dire obbligato perché si è di fronte alla strada il marciapiede è molto stretto e di conseguenza i ragazzi non riescono a stare distanziati l'idea di chiudere il traffico non conosco la zona ma potrebbe essere una soluzione nel momento in cui in quei minuti che servono prima di far entrare gli studenti per garantire il distanziamento anche sulla strada di tutti questi ragazzi che devono entrare poi a lezione Luca Marini invece è il grande orgoglio di Tavuglia gli è stata consegnata una targa dalla sindaca Francesca Paolucci lo vedete in questa fotografia la sindaca con il pilota il pilota tavugliese che ha 23 anni e che è trionfatore del GP di San Marino nella classe Moto2 che lo scorso weekend a Misano Adriatico guida la classifica di categoria e quest'anno ha già ottenuto due vittorie e due secondi posti dunque un riconoscimento dovuto ad un pilota straordinario che insieme ovviamente a Valentino Franco e a tutti i piloti della VR46 ha portato Tavuglia sul tetto del mondo da Tavuglia a Sant'Angelo Invado perché a Sant'Angelo Invado si vota anche per eleggere il nuovo sindaco sono tre i candidati in corsa la sfida nelle urne del 2021 sarà tra Romina Rossi, Stefano Parri ed Emanuela Galli per la successione a Gianalberto Luzzi anche qui vedete il Carlino dedica una pagina l'articolo a Luca Marini che viene premiato con una targa dalla sindaco Francesca Paolucci e poi sul voto di scambio a Fano invece ecco qua la notizia pagina 24 del Corriere Adriatico di oggi sul voto di scambio c'è adesso una rida di reazioni allora di chi ne ha parlato innanzitutto di questo voto di scambio? ne ha parlato Francesca Cicchini che è candidata dell'Udc alle regionali e che l'ha scritto su Facebook e quindi da lì poi in tanti hanno risposto si sono anche indignati la Ruggeri ad esempio del Movimento 5 Stelle dice indaghi la magistratura se sa di questi voti di scambio insomma si faccia un esposto si dica esattamente come stanno le cose allora si parla di prassi deplorevoli deplorevoli che anche nella nostra città si tramandano di elezione in elezione siamo ormai abituati ad assistere a queste cose questo chiamiamolo voto di scambio dice la Ruggeri e oltre a rigettarle completamente i cittadini devono continuare a vigilare perché certi atteggiamenti borderline cioè al limite non sconfinino nella rilevanza penale del voto di scambio per la maggior parte si tratta di condotte certamente censurabili sotto il profilo dell'etica pubblica e qui parliamo di cene offerte con centinaia di coperti serate in discoteca pagate compresa la navetta centri anziani militarizzati a supporto di un candidato ma talvolta si vocifera di promesse di assunzioni o addirittura di vere e proprie donazioni di beni e a diverse associazioni o di denaro per singole preferenze qui il confine si supera ampiamente allora è doveroso che se ne interessi la magistratura appena si abbiano le prove e poi questo è chiaro appena si abbiano le prove sull'altra pagina pagina 25 del Corriere Adriatico ieri vi abbiamo fatto vedere questa scala antincendio dove i bambini vedete in modo molto diligente e distanziati guardate come sono cuccioli e teneri salgono le scale per andare in classe ora l'assessore chiede pazienza qualcuno aveva protestato perché chiaramente la scala antincendio si usa soltanto in modo straordinario solo quando c'è appunto un'emergenza un incendio bisogna fuggire all'improvviso scappare di corsa ecco ma non certo per far scendere o salire gli studenti in modo ordinario cerchiamo una soluzione però dice Bonci del sindaco del comune di Fossombrone proteste per gli alunni sulla scala invia le Gramsci senso unico invece da oggi mentre sulla pagina di Vallefoglia è il benvenuto con le asfaltature poi c'è il mutuo Monteciccardo allora si parla di Monteciccardo che è passato sotto il comune di Pesaro adesso quindi è guidato dal sindaco Ricci Ricci che ha annunciato al municipio l'impegno di 185 mila euro per le strade referendum siamo sulla pagina di Urbino non dimentichiamo che noi marchigiani saremo chiamati non solo a esprimere il voto per eleggere il nuovo governatore delle Marche e il nuovo consiglio regionale ma c'è anche il referendum tra il sì e il no vogliamo diminuire i parlamentari sì, no c'è chi è d'accordo c'è chi invece dice se diminuiscono i rappresentanti se diminuiscono gli onorevoli si perde un po' la rappresentatività del territorio questo è uno degli argomenti più spesi per chi è contrario alla diminuzione degli onorevoli allora consegno uno spirello qui siamo sulla cronaca del Corriere Adriatico ma Hermes Hermes è il cane il cane antidroga non ci casca dunque spunta Ashish anche dello zainetto nell'abitazione di questa ragazzina di appena 18 anni appena 18 anni fermata dalla polizia agli orti giuli il cane antidroga non le dà scampo io forse ho detto all'inizio che era della Guardia di Finanza ma no Hermes dovrebbe essere un poliziotto un cane poliziotto sì Hermes ne ha fiutato l'odore e l'ha incastrata lei invece pensava di farla franca ha dato subito lo spinello dice magari si accontentano i poliziotti del mio gesto come dire di sincerità in realtà questi ormai i nostri poliziotti la sanno lunga quindi grazie anche al cane sono spuntati fuori anche altre cose dallo zaino poi dopo c'è stata la perquisizione anche domiciliare quindi a casa e dunque è stato trovato anche dell'altro 17 dosi di ascici insomma 125 euro eccetera eccetera allora mentre è morto l'anziano trovato ferito in fondo alla tromba delle scale non ce l'ha fatta il pensionato di Serravalle di Carda trovato martedì mattina praticamente caduto dalle scale dopo un paio di giorni Remo Stocchi questo è il nome 83 anni è deceduto nella stessa serata all'ospedale di Torrette dove l'eliambulanza lo aveva portato per poi essere ricoverato la procura di la procura di Urbino vuole comunque capire un po' ed è stata disposta l'autopsia andiamo un attimo poi le pagine di sport perché così magari vi lascio un po' e ci salutiamo con una con un ragionamento che vorrei faceste anche nel corso della giornata si parla di social network e si parla dei famosi mi piace che si mettono nei post su facebook in particolare ebbene sulla pagina 11 del resto del carino di questa mattina si parla dei mi piace delle manine col pollice su che tanto piacciono ecco ogni mi piace è una scarica di dopamina ecco come i social creano dipendenza la dopamina è una sostanza che crea il cervello e che quindi genera dipendenza e sta all'origine delle dipendenze di tutte le dipendenze da quelle sessuali a quelle della droga dell'alcol e quant'altro la dopamina è quella sostanza che poi ti tiene lì gli psicologi dicono gli stimoli positivi ci spingono a ripetere le stesse esperienze la Silicon Valley sfrutta questo meccanismo il meccanismo di creare dipendenza quindi i like quei mi piace che tanto che ci fanno fare cose anche stupide a volte anche cose fuori di testa pur di vederne tanti sul nostro profilo ebbene crea sappiate che crea dipendenza ok andiamo a vedere velocemente le pagine di sport per il Fano che sfida a Perugia inizio di campionato con il Botto per i Granata che saranno subito di scena il glorioso stadio Curi quanti ricordi allo stadio Curi di Perugia una una vittoria una straordinaria si è vinto il campionato al Curi di Perugia una diretta radiofonica di Corrado Cardelli se non ricordo male il compianto Corrado Cardelli il patron Fatto ma torniamo a noi il patron Fatto sempre sulle tracce dei due bianconeri Tofanari e Tassi ma il secondo vorrebbe giocarsi le sue chance con Lascoli in Serie B Mauro Traini fa il punto della situazione è il direttore sportivo del Fano poi nell'altra pagina invece Fano debutto a Perugia per la Vista invece il Legnago il 101esimo derby della storia fra Banco Rosso e Granata arriva la 14esima giornata primo round al Benelli il 6 dicembre replay al Mancini il 28 di marzo Crespini è soddisfatto un inizio accettabile dice il DS dei Vissini sotto invece il presidente del Fano Fatto dice continuiamo a lavorare duro cercando di farci trovare pronti fin dalla prima giornata la partenza è shock però per il Granata un girone di ferro qui vedete nella fotografia il mister l'allenatore del Fano Alessandrini è tutto grazie per averci seguito la nostra segna stampa ci vediamo stasera alle 20 e 30 con Occhio alla Notizia il telegiornale arrivederci a